La sfida che ci ha lanciato CAP è quella proprio di immaginare il futuro di questa piazza e disegnare il futuro è quello che noi cerchiamo di insegnare ai nostri studenti. Noi ci confrontiamo con un'utenza vera, che sono innanzitutto i cittadini. Abbiamo affidato questa sfida a chi vive questi spazi, confidando nel loro sguardo innovativo verso il futuro. La nostra rezza è esaltante, ti metti in gioco e impari a elaborare velocemente. Gli ombrelli avranno duplice funzione, una di raccolta acqua e la seconda sarà proteggere i pendolari durante l'attesa. Si focalizza sull'acqua, le linee, il movimento, un'esperienza interattiva. Crea legami fra le persone tramite dei percorsi a tema amore. Quello che sorprende è la varietà degli approcci, pur mantenendo coerenza con quelle che erano le richieste del gruppo CAP, a cui ora aspetta il verdetto. Abbiamo vinto e con noi ha vinto anche l'idea di arte e cultura per le persone. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.